Aiutaci ad avere un cuore come il tuo, capace di amare Gesù, di riconoscere Gesù, di metterlo al primo posto, in ogni circostanza della nostra esistenza. Vedete, se noi avremmo fatto questa ascesi, noi avremmo fatto un buon pellegrinaggio, avremmo fatto un buon cammino e veramente il cuore di San Pio e soprattutto il cuore del nostro Salvatore Gesù Cristo sarà lieto di noi, sarà contento per noi. Qualche volta possiamo cadere, qualche volta possiamo zoppicare, possiamo fermarci. Tuttavia riprendiamo coraggio. Questo è il momento di riprendere coraggio dopo essere venuti dinanzi al suo altare, all'altare del Signore, ai piedi del Santo tanto amato e rinnoviamo i nostri buoni propositi. Passo dietro il passo di San Pio, camminare dietro la strada che Lui ha lasciato e avere un cuore grande, un poco come il suo, per amare il Signore, quasi divinamente, così come l'ho amato Lui. La Madonna, Regina del Cielo e della Terra, ci aiuti a custodire e a mettere in pratica i buoni propositi.